E ora andiamo a Pollica dove per un mese 80 scienziati si confronteranno sulle leggi fondamentali che regolano l'universo. L'inviato Ettore De Lorenzo. Sono arrivati gli americani, dicono così qui a Pollica, paesino arrampicato sulle colline del Cilento, quando vedono questi 80 scienziati che camminano per le vie del paese. In realtà non sono tutti americani ma parlano tutti naturalmente inglese e quindi qui li chiamano gli americani. Sono 80 fisici teorici che per un mese passeranno il loro tempo qui per un workshop con i loro colleghi di 15 paesi di tutto il mondo. Studiano i misteri dell'universo e si incontrano qui perché qui trovano l'ambiente ideale per pensare. Li ha messi insieme il professor Mario Martone che insegna fisica teorica al King's College di Londra. Che ci fate qui? Facciamo quello che praticamente si fa in queste terre da oltre 2000 anni, ovvero sia produrre pensiero, produrre idea, creare scienza. Le prime due settimane parleremo della materia oscura che insomma non è poca cosa. Noi dopo 400 anni di fisica teorica, da Newton ad oggi, da Galileo ad oggi, abbiamo scoperto soltanto il 5% della materia dell'universo. L'idea è quella di prendere elementi migliori al mondo, contestualizzarle in un ambiente semplice ma allo stesso tempo estremamente accomodante e semplicemente lasciarle comunicare, condividere e la cosa che non manca mai è darle qualche lavagna per poter scrivere i pensieri giusti. Per queste tre settimane, quattro settimane durante il workshop tutto il paese, locali e stranieri, si congiungono in un unicum di collaborazione per cercare di spingere il pensiero tre, quattro step ulteriori a quello in cui era.